oh ma tu adesso non hai caldo no? un coro praticamente praticamente... no no puoi alzare puoi aumentare un pochettino si è un coro praticamente perfetto BOOOOON IN THE ISLAMIC STAETE! facciamo propaganda per lo stati islami l'NSA! l'NSA! sai che è un attimo che qui si scatena la guerra santa ma dove cazzo è? Andiamo un attimo, non so, mi ricorda che giorno, mi ricorda, mi distrugga l'altro sul tavolo Sai che temo che tu debba usare il mortaio per distruggerli, perché non ho altri mezzi E poi compriamo il C4 Sai cosa faccio? Lo spedisco a madre che sposti? Non puoi, c'è il 0% Ma comunque è abbastanza forte E comunque non ha fatto niente O daglie, a parte che abbiamo fatto un numero di video tale per cui Sì, no, no, non dicevo perché è un dato di fatto, non siamo mai andati all'armata del VESA a potenziare le cose, è vero? Cioè, è un dato di fatto Guarda che abbiamo, cioè siamo più o meno di... Ma non mi fai il cazzo che livello siamo? Silenzio, vediamo dove sono, se vedete dei nemici che non ho taggato Taggato, adesso si dice taggato Non preoccupate No, non vedo un cazzo Dove ci sono i quadratoni, eh? Oh, che bello Eh, dove cazzo sono i quadratoni? Di là, dall'altra parte Ah, perché mi ha girato, ok No, qual è che dovrei fare fuori? Dove ci sono i quadrati Sono solo due, no? Sì Due, tre Uno è qua, adesso No, sono due, lì è il cavallo No, esatto Ah, ti sghiamo con voi, questo Eh, ti scopriranno, forse... Dici... No Vai Cannoneggiare Adesso devo mirare l'altro Dove cazzo è? Destra E' lì Così Sì No, la terza è destra, lì dove c'è la lucina blu Bello, mi piace, possiamo vedere su un gelantenne Dai, levati, levati Che bello È ancora attiva Dai, su tre, giù No Keep going Ma... no, ma siete dei... dei loser Io? No, no Eh? Bravo, spara lì Dov'è? Quella lì che... Eh, prova a cannoneggiare Là Non ha funzionato Ma non è che è dietro qualcosa? Beh, comincio a pensare... Ah, ma è quella dentro, mi sa Eh... chi... Andiamo a vedere, va Non era quella dentro là Sennò vai di granata Che ti devo dire? Ah, abbiamo le granate Dici qualcosa da raccogliere Ah, le granate non andavano bene Cioè, proprio il C4 Bisognava usare Eh... per un... per una cosa, sì Per l'antenna è un po' difficile con la granata Sono diventato cieco Giulio, della tua cornea Non ce l'ha mai fregato un merito cazzo Sarà sacrificata al dio metallo Gear solido Senti, Gio Vuoi dire ai nostri iscritti cosa pensi di Kojima? No, 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 dai, non mi far dire niente, cazzo Che è? 9 metri, Gio E qual è lì? L'ho detto, è quello che avevi visto prima No, 9 metri, un'altra guardia No, è questa che dobbiamo fare Sì, infatti Allora, croce direzionale destra E trovi la granata Ok A frammentazione Non la posso lasciare qua sotto, così No, no Come cazzo si lancia? Così Perché rimbalza? Eh, io ho paura che rimbalzi Così Sì E vattene, per carità di Dio Ma no E non si funziona Fa, oh Mettivo completo Perché sulla Gio cosa pensi di Kojima? Questo modo che spero Shhh Raga Lo trovo stranamente attraente Come faccio? Come faccio a mettermi la pistolina? Giù Croce direzionale giù Giù L'altro giù Grazie Dov'è quel coglione? Vabbè ma vattene, devi per forza Anzi dentro Come si fa adesso? C'è la tempesta Tempesta copre le tue tracce Vai R2 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 Fatto L1 Si vuoi parlare L1 Con la... esatto e poi R Quindi dei più gialli Che... che bordanno è? C'è McRu se ti chiamano zigretti qui Grazie Lasciami andare, adesso cosa devo fare? Uccidelo No, lo porto fuori R2 lo strangoli C'è lo sono, lo sai svenire Perfetto Adesso portiamo fuori L1 Iniziamo nella stratosfera Eh, se c'è la tempesta non puoi Veramente? Eh sì, c'hai il 30% di probabilità Un po' di sottotare con lui Come cazzo si? C'è la porta Destra, destra Destra e ancora destra Sì Gio è il suo Se ne è il suo dove l'entrata Ma lo vuoi smollare di? Grazie Dai 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 ce la fai Dai, dai Comunque Come faccio a sapere se ha funzionato? No, ha funzionato, non c'è Che culo No Scherzato, quello fallito Allora, vediamo dov'è che ci dice che è Dei chiamare le ricotte No, il diamond Cazzo, il diamond Abbassati Abbassati Sinistra Con le cose blu lì no Diamante grezzo Dove dove? Te la segnalavo, giù La via a sinistra Da Sinistra Sinistra Cosa vuol dire? Niente Che ti piace vestirti da dare? No No, volevo superare I'm in the Islamic State Hai visto l'account Isis Karaoke su Twitter Di cos'è? Delle immagini di Personaggi dell'Isis, eccetera, con dei test di canzoni abbinati Tu hai arrivato a tua destinazione Puoi prendere tutto anche da te Eh, guarda quanti soldi ci ha andato, cazzo Tu te, te volevi Ok, dove facciamo atterrare l'elicottero? Dov'è che non c'è nessuno qua, quindi Proprio dove ti pare? Ti tiri su, coglio Dai, questa missione è stato un successo, ma È solo un caso che non l'abbia fatta tu Mi piace questo Questa risposta piccata Ma non è vero Questi inlazioni Ok, questi volermi bene Infatti, dove ti ho detto? Ho solo un moto Silenzio Devo far atterrare sto cazzo di cosa E non sai che faccio se io ne frega Si, ma come si Oh, come si Spia schiaffi, eh Pagliaccio Elicottero E poi seleziona recupero Punto di recupero Vai su, vai su, vai su Pervio, eccolo lì Jonat, non selezionata Eh, come cazzo si sa? No, perchè devi selezionare una colliella Col comparito Vai, prova Vai Scegli un posto Puoi farlo te, perchè non so i tasti, cazzo Cioè X ok No, quello è lì Grazie Era così complicato? Si Comunque Comunque, stavo spionendo Il mio voler bene Ma io non hai detto che non ti voglio bene, infatti Sei sicuro? Si, se lo fai io Però adesso forse si, ma non so In fear di sicuro l'ho detto Ma, eeeh E quindi quando farei di nuovo la festa No, raga cos'è sta merda? Una scatola Si, ma io devo mettere i night vision bloggers Ma bene, adesso te le metto Calma Calma Cos'è che fai? Ah, finistro a destra Ok, 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 ok Aspetta però, poi ti metti nessuno o se no Ecco Ehm, che sto dicendo? No, no, me è vero che non ti voglio bene, frate Te l'ho detto, ho solo un modo curioso di dimostrare il mio frate Ascolta un po', ma se a te piace così Raga ragazzi, sai scureggiare Se mai farò una festa a casa mia inviterò tutto il canale No, dimmelo, perché sennò chiudo la bocca, vado di là Chiudi la bocca Chiudo il microfono, perché penso che nostro cliente non vogliono sentire su quello di scureggiare, ma Vedi? Allora, tanto prima che arrivo Ti si, allora, sono per dietro No, no, ma non era Tanto lo sai che appena arriva si mette a smitragliare, no? Qui piccolo Ma dico, ma come cazzo ha fatto vedermi quello stronzo? Aia Si, ma quale fuoco? Cioè, ci sono due tipi Che lo so E comunque dovrebbe succedere ad andartene ben prima Triangolo, triangolo Ok Adesso devo fare qualcosa? No Se vuoi puoi smitragliare Smitragliare, smitragliare, ecco sempre me Va, va che figa Troppo sul disfacente del mondo Così a cazzo Il cavallo è stato recuperato Non va in jamming dopo Adesso mi posso lasciare di sotto No, no, no Vabbè, scusa, voto da 1 a 10 100 Cioè, no, minchia Come oggi Bond Che cazzo Andava in giro con il lancio Eppure secondo me avrei preso B come Bond Vabbè, questa centra Mi hanno sgamato E poi magari c'erano dei Come si chiama? Dei cosi da pigliare B Magari ci sono dei prigioni, i prigioni tirano un botto di soldi Pregioni isolati in Z Perché alla fine All'arte dei nemici 2-10 mila Colpi subiti, animazionalità, colpi della testa Accuratezza, neutralizzazioni, marcature Vai Interrogatori efficaci mi piace Vogliamo potenziare un po' di roba Ma mi sembra il minimo, cazzo Sarebbe anche ora No, non l'ho mai fatta neanche io Cosa devo fare? X Aspetta, vai Minchia quanto sei eroico Chi è? Minchia quanto sei eroico Era necessario mettere i titoli Sì, ci teniamo proprio C'ha proprio scritto qui Sì, l'hai detto in persona giù Kuchima No Noi potremmo avere una persona in contatto diretto con un cugino Tu lo sai che non dovevi fare questa cosa però No, tu lo sai che mi hai distrutto metà degli armadi Per favore non farlo più Vole Si, si Guarda la stemma attenuta Cazzo di cavo Di merda Allora, ok, come funziona qua? Niente, qua è una brigata Allora, vediamo se abbiamo recuperato delle persone 1B, eh 1B No, no, no Ma abbiamo visto che le medie sono piuttosto basse Allora, se stanno in mobile mentre sei nella scatola Su un punto di consegna di color arancione non ha un posto Sare trasportato ad un altro punto di consegna Ok 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 Benissimo Ok Benissimo Adesso cosa devo fare? Allora, fai l'iPod Lì, l'iPad Come cazzo si chiama? L'iDroid L'iDroid Command Center Or ACC Some elements of staff assignment And R&B Weapons and items Can only be performed from there Edding to another base Che malormato il base Prendo il tasto prepara Mentre usi una copertura Puoi spogliare la copertura Appuntare l'arma Invece hanno il tasto prepara Ok Ok Ma piove ho sbaglio Chi è? Cazzo fa? Si allena Sono le nostre nuove reclute Mi sembra uno più coglione dell'altro Che cazzo è? Billy the kill dei poveri? Ha già amato l'arma Cioè, veramente Adesso spero che la spacchi in testa Che cos'è? Che cos'è? Ah ah ahah Questo è un'automazione Che cosa ti prevede Non sbagliare di scoccare Un'unica militia, quindi non si tratta di un'unica Ti insegni come un vero soldato combattono Ti vergogni tutto ciò che Hollywood mi insegna Se non ti insegni qualcosa di più, lo sappi Un'esercizio Non ti rende un'esercizio Eh, ha ragione. C'era alcuna scelta. Molto bene. La doccia? No. Ma! Ma! Il morale dei personaggi è aumentato, così credo che proprio saremmo... Eh, ma... Cazzo fanno! Gioiosi, ecco. Direi gioiosi. Bene, adesso cosa facciamo? No, non puoi. No, dobbiamo potenziare tutto. Prima fatti una doccia, ce l'ho fatto. Non voglio fare la doccia, non mi chagare il cazzo. Allora, dobbiamo potenziare i palloni aerostatici. Ok, allora metti l'eye drone. Cosa si fa con option? Sì. Dimmi schiacciare option? No. Modern base, sviluppo, armi oggetto. C'è di tutto, lo dico prima. Allora, prima di tutto vai su oggettistica varia e potenzia tu sai cosa che hai visto oggi. Cos'è? Giusto per capire cos'è? Il caricatore. No, puoi guardare, soltanto che livello unità di ricerca è 12. Cello non ci siamo. Cello non ci siamo. Cello. Cello. I c4 base. Quanti soldi abbiamo però? 99. Abbiamo quasi un titolo. Questa questa 40.000, vincchia, lo prendiamo subito. Ok. Bene. Benissimo. Richiedi il lancio? Sì, sì, sì. Lì, nella scatola. No. Vabbè, ci arriva in testa. Andiamo avanti. Comunque puoi andare avanti e poi farti andare. No, hai droida ancora. E voglio vedere che mi arrivi in testa. Guarda che sta arrivando, vedi che ci si arriva, ci si arriva. Sì, sì. Dai, hai droida ancora. Aspetta, aspetta. Cazzo, sono 50 metri e adesso no. Eccolo. Questo qui si può utilizzare per fare fuori i cecchini. Se c'è un cecchino che ti sto sparando, gli fa arrivare a delivere in testa. Ma! Ma che cazzo fa? Ah, ok. Bellissimo. Ok. Adesso, mauler base, sviluppo armi, armi oggetti. Pistolina si può potenziare? Sì, la potenzieremo perché... Allora, cos'è sta roba? 15-4 ancora. Ok. Aspetta, c'è un'altra cosa che potete sviluppare, non so se l'hai visto. Dove? Che è sotto, lì sotto. GMP. Gabbia trappola. Che non so cosa sia, però se leggi magari... Mina soporifero, no? Ma chi se ne fotte, raga? Facciamo le cose importanti. Fra che... Questa si devi. Binocolo tattico. Ok. Potenza la pistolina che c'è la possibilità. Un attimo, un attimo. Dobbiamo fare il ballon. Balloon! Che che faceva ballone? Era un attacco... Badooba. Esplosivo Fulton. Ma non puoi ancora farlo. Perché? Il livello di unità di ricerca è 9. E noi abbiamo? 7. Ma abbiamo però cominciato il gioco normale, eh? Fiasso, soppertiore. Lo sei lanciato in test. Eh, a me piace così. Tanto sangue per sangue. Scusa, non è una cosa... Una cosa strafiga. Sì, sì. Allora, oh, oh, oh. Vediamo cos'è sta roba. Ah no, chi se ne fotte. Braccio bionico, sonar, sonar. Cioè, inutile, non mi serve. Questo vuole... 16. Eh, minchia, sarà. Chissà che cazzo farà. 17. Cosa fa una droide in più, scusa? Questo che c'ho. Leggi un attimo. No, eh... Quello che vuoi fare è quello prima. Eh, sarà migliore. Funzioni altoparlante. Non è che costa infinito. E poi potenziamo... Un po' più avanti così, eh. Non ci casca in testa. La pistolina. Allora... Allora... Vediamo questo. Vediamo cosa vuoi fare. C'è la migliora, no? O l'abbiamo già fatta? Non ho capito. No, no. Eh, citata aumentata, slot ultimo inferiore. La migliori. Se fai così la migliori. Torcia tattica e potere d'arresto aumentato. Nulla. Ah, perché devo aspettare che arrivi l'altro? Prova a vedere. Non l'hai ancora richiesta, provo a vedere. Il miglioramento era... A destra. Ma non c'è più, dove è finita? Quintentemente l'hai fatta, non so. No, secondo me c'hanno inculato. Fuga a destra era il miglioramento. Perché vedi che è ancora una stella la pistola SW? Prova a vedere, magari adesso se lo fa. Cosa cazzo è successo? Cribbio. Non è. E' da qua questo. Sì. Più avanti. Così non arriva in testa. No. Tanto, tanto poi mi... Non farlo cadere in testa a lui? Poi vediamo. Questo che cos'è? Pistola. Ma no. Non me ne frega un cazzo di tutta sta merda. Io voglio solo roba... Fucile da cerchino, guarda se ce n'è uno silenziato. bengala, scatola, mimetico. Posso fare un altro? No, devi prima prenderla giù. Prendila e poi vedi se poi... Ah, ok. E' un po' macchinoso però. Cioè, divertente. Cioè, fammelo vedere due o tre volte e poi fine perché mi hai rotto il cazzo onestamente eh. Un po' macchinosa questa cosa. Silenziatore, durevolezza, bassa. Non posso usarlo. Il livello di unità di ricerca è infinita. 20. Controlla il livello della gente che hai portato o quelle cose lì, no? Eh no, erano tutti bassi, abbiamo visto. Eh, non puoi mandare affanculo. E se li mando affanculo cosa succede? E' che ne porti altri poi. Cos'è sta roba? No, se è vero. Questo qua costa 40.000. Eh, ma... Vabbè sì, tanto per quello che costa. C'è altro? Vuoi fare vedere un potenziamento della Mother Base? Mother Base. E adesso gli ho anche quel ponetto. Giulio, cos'hai mangiato? No, 12. Questo qua, però, potrebbe non essere. Per il futuro, potrebbe non essere. Per il futuro, proprio. Abbiamo 12 di... Queste cosa sono? I... Però sono tutti. Ma non puoi farli, però. Attenzione. Così. Scuro tattico, ma chi se ne frega. Eh, sembra... Non c'è silenziatore migliore, no, vero? No. Eh, ha provato. Giulio, cosa hai lanciato oggi? Che te frega. Mi frega. Non ti avevo chiesto. 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 Raga, direi che siamo a posto, no? Sì, sì. Quali sono le potenziamenti della Mother Base per curiosità? Vai dietro? Tondo? Vedi che c'è gestione staff? Abbiamo un po' ancora a fare. Gestione staff? Vai gestione staff? C'è anche il database. Eh, ho capito. Mi piace Silent Mastodon che è un bomber. Però non so come cazzo si... No, vabbè, questo lo guardiamo un'altra volta perché è troppo lungo. Guarda il database e invece... Ah, no, ma... Facciamo qualcosa? Sì. Speed it out. Non puoi ucciderlo. Minaccia il nemico. Cosa sta facendo? Eh, si sta riprendendo. Bene, quindi adesso che siamo fortissimi cosa facciamo? Eh, andiamo a fare altra missione. Scatolopolo. E qui cosa avevi lasciato? Il... Il fucile. Il fucile a cieca. Prossimo video. Ok. Ok.